ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video di chessburger tv oggi giocheremo contro agadmator o meglio il bot che lo emula su chess.com vedo che l'hanno stimato a 2000 e vabbè iniziamo subito e4 ok agadmator magari qualcuno già lo conosce è uno dei principali youtuber uno dei primi che ha fatto numeri grossi particolarmente apprezzato tra i miei amici dell'università quindi sfidiamolo per questa partita ok giochiamo la nostra apertura italiana molto italiana e qua giochiamo a Rocco ok l'italiana vera si avrebbe se qua il bianco spingesse in c3 d6 e ora ok possiamo possiamo giocare c3 senza troppi problemi alfiere b6 alfiere b6 probabilmente il nero visto che il bianco vuole fare d4 molto presto vuole giocare alfiere b6 per prevenirla o diciamo giocare d'anticipo ecco ok d4 è ovviamente una possibilità a me piace giocarla più tranquillamente questo tipo di posizioni soprattutto adesso che ha perso un tempo con alfiere b6 in genere si gioca anche a6 addirittura per portare l'alfiere direttamente in a7 così che proprio non abbia nessun tipo di problemi neanche in futuro ok giochiamo a c3 che è una mossa utile per impedire il naturale sviluppo dell'alfiere che sarebbe g4 anche per contestare un minimo la spinta in d4 rimuovendo o comunque inchiodando il cavallo in f3 che la sostiene e alfiere b6 alfiere b6 è una mossa che mi piace molto da nero perché in caso di presa in e6 il nero riprenderebbe col pedone f controllando il centro e un'altra cosa utile che fa è che dopo l'arrocco la torre che si porta in f8 è più libera e attacca molto bene anche il re del bianco ok quindi possiamo dire che in caso di alfiere per e6 f per e6 questa è un'impedonatura ossia esistono casi in cui i pedoni doppiati sono un elemento quasi positivo per la posizione ok donna per b3 anche a per b3 poteva essere chiaramente legittima e ora d3 d3 cercherò di fare la stessa identica cosa da questa parte quindi alfiere e3 e se lui deciderà di mangiarmi ok f per e3 si ripropone la stessa cosa che abbiamo spiegato in precedenza donna d1 anche in c2 era perfettamente giocabile ora cavallo d2 ok alfiere per e3 f per e3 siamo abbiamo ottenuto quello che volevamo dopo dopo questo sviluppo degli eventi e ora possiamo portarci anche a sfruttare appunto la colonna f perché no quindi portiamo iniziamo un attacco verso il re del nero per esempio per portare in gioco la donna potrei giocare donna e1 e poi successivamente donna g3 effettivamente cavallo c5 non l'avevo vista non l'avevo vista e ok se volessi difendere questo pedone dovrei muovere per la seconda volta la donna in una casella in cui sarei potuto andare direttamente dall'inizio quindi un po' mi scoccerebbe quindi ok prendiamola con filosofia e giochiamo d4 che sembra comunque una mossa eccellente addirittura adesso ci sdoppiamo i pedoni ci sdoppiamo i pedoni e vediamo anche la forza del pedone in e3 che sosteneva anche appunto la spinta in d4 che è uno dei degli obiettivi dell'apertura ok qua io mi posso mangiare un pezzo gratis raga cioè io non so chi abbia fatto queste stime ma a 2000 punti un errore del genere non esisterebbe ok che lui si mangia il pedone in b2 però il compenso è veramente minimo e con un pezzo in più la posizione si vince abbastanza tranquillamente ok vediamo non parliamo troppo presto aggrediamo subito il pedone in b2 anche torre in 8 una mossa no sense e dà anche la possibilità di non perdere il pedone in c5 ok partita partita del tutto in discesa d'ora in poi f5 sì ok è un problema però per quanto il mio avversario possa cercare di creare problemi il pezzo in più rimane e quindi e quindi sì insomma ok possiamo dare questo scacco in d5 ora ci possiamo portare quel cavallo in g5 dove minacciamo grandi cose e va bene cavallo e 5 difende la casella f7 sicuramente è una cosa buona e attacca il cavallo in g5 interponendo il cavallo tra la donna e il cavallo mio ok penso che la cosa migliore per il bianco sia cercare di scambiare i pezzi qua e il bianco lo può fare in modo abbastanza elegante e tranquillamente giocando donna per e5 donna per e5 elimina il difensore della casa f7 quindi dopo donna per e5 facciamo caso pedone per e5 io mi porterò in f7 dando questo scacco doppio e recuperando la donna il re si dovrà muovere io mangerò la sua donna lui mangerà il mio cavallo e alla fine della fiera avrò ottenuto che ho scambiato donna e cavallo miei per donna e cavallo suoi entrando in un finale tranquillamente vinto quando sacrificiamo così la donna però dobbiamo stare un minimo attenti che non ci siano dei problemi intermedi per esempio mi viene in mente che su donna per e5 lui potrebbe dare questo scacco che può sembrare vincente per il nero perché mettiamo caso recca 1 a questo punto mi mangia la donna e con cavallo f7 non sarebbe più un doppio ok fortunatamente il bianco ha una risorsa che su donna b6 vediamo se la gioca no se avesse giocato donna b6 io semplicemente avrei parato con la donna in d4 quindi togliendomi dalla possibile cattura del pedone quindi lui mi mangia la donna cavallo f7 siamo entrati nella nostra variante principale tra mille virgolette torre 1 ora inizierò a collezionare pedoni e il vantaggio del pezzo sarà troppo grande ovviamente uno dei problemi dei bot è che non abbandonano non abbandonano mai giustamente ok andiamo a mangiarci anche il pedone in b7 ok l'unica cosa che dobbiamo cercare di evitare come la peste è di scambiare questi due pedoni perché le nostre conoscenze questi quattro pedoni sarebbero i pedoni h e g perché le nostre conoscenze ci dicono che torre e cavallo contro torre da soli senza nessun tipo di supporto è una patta abbastanza facile per il nero il nero riesce a difendersi abbastanza tranquillamente e quindi insomma dobbiamo cercare di il nostro obiettivo è quello è lo stesso di molti finali che sarebbe cercare di promuovere un pedone oppure guadagnare la torre in qualche modo ok avanziamo il re anche lui decide di attivare il suo re ma senza un vero delle vere speranze ok ricordiamo torre e cavallo contro torre è una patta abbastanza facile per quello che deve difendere con la torre da sola mentre ben più difficile è difendere il finale torre alfiere contro torre che è sempre patto però anche i campioni i top i top 10 diciamo più delle volte hanno dimostrato di poter di poter sbagliare quel finale e non riuscire a difenderlo perché le posizioni di difesa sono molte vanno studiate vanno ripassate perché molte difese sono controintuitive probabilmente tra non so qualche settimana potrei proporre un video in cui spiego bene quel finale che è un un'apocalisse però cercherò di spiegarlo anche anche per i ragazzi meno esperti ok qua c'è da da manovrare un po' ma al finale rimane tranquillo ora sembra che lui sia arrivato a un punto molto vicino da aver scambiato anche anche gli ultimi pedoni e ok dopo dopo torre A2 penso che lui rischia addirittura di prendersi qualche qualche matto dopo reggi 6 ok era la mia minaccia era cavallo H7 scacco a quel punto unica mossa reggi 8 e torre 8 matto con torre G2 lui minchioda il cavallo sul re quindi questa minaccia è parata ora proviamo a attivare un minimo la torre in modo che possa scendere in ultima dagli scacco per esempio scacco qua e posso mangiare questo pedone forse alla prossima sì posso mangiare il pedone quindi il vantaggio del mio cavallo ha prodotto una una presa di guadagno ulteriore del pedone questo pedone promuoverà molto velocemente a donna supportato dai miei pezzi per esempio torre G8 e qua promuovo a donna e qua ok questo finalino è abbastanza semplice proviamo a giocarlo senza il cavallo decidiamo di portare il re schiacciato in questo rato della scacchiera facciamo finta di non avere un cavallo così questa partita sarà anche un minimo didattica ora quando i re sono in opposizione il mio re controlla queste tre caselle quindi torre scacco e avvicino il re alla meta a dove lo voglio portare ossia sulla colonna a ora avvicino il mio re re 5 probabilmente porteremo un video in cui spiegheremo le criticità di questo finale che è abbastanza semplice però racchiude comunque le sue insidie qua se il re si avvicina alla colonna senza che io l'abbia costretto lo limito quindi porto avanti la torre il re mi sta aiutando non mi sta facendo perdere del tempo arriva direttamente alla colonna re c6 ora se il re viene a 6 matto subito e ora parte l'inseguimento nel momento in cui i re si si affiancano si affacciano si accoppiano darò sempre matto con torre a 8 quindi re c3 re a 1 re c2 e torre a 8 matto così si vince questo finale e ok partita un po' viziata da quel pezzo in presa che ha lasciato una certa però ok abbiamo battuto la simulazione di agadmator ciao ragazzi se volete iscrivetevi al canale siamo sempre su youtube twitch e se volete anche instagram se volete rimanere aggiornati tramite le storie contribuire a qualche sondaggio per aiutarci a sviluppare meglio i nostri i nostri contenuti e niente ragazzi ci vediamo tra un paio di giorni per il prossimo video ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.